E' già stata avviata la macchina organizzativa per la settimana santa a San Cataldese. Siamo felici di annunciare che sarà l'Associazione Amico Medico ad organizzare l'importante manifestazione per le edizioni 2023 e 2024. Queste le parole del primo cittadino, San Cataldese Gioacchino Comparato, espresse sui social per parlare dei riti pasquali. La decisione, ha aggiunto, è stata presa con delibera di giunta numero 13 del 2 febbraio scorso, in seguito a una comune volontà espressa da tutte le realtà associative. Non è la prima volta che l'Amico Medico viene investita di questo ruolo. Quest'anno lo fa con maggiore entusiasmo, sia perché veniamo fuori da anni di pandemia, che in qualche modo hanno bloccato le manifestazioni per due anni e hanno reso possibile una manifestazione solo parziale lo scorso anno. Quindi quest'anno c'è molta attesa, c'è molta voglia di ricominciare e per questo motivo sono state coinvolte tutte le realtà associative e culturali, ma anche gli appassionati che ruotano intorno al mondo della Settimana Santa San Cataldese, sono tante, in modo tale da poter dare tutti un apporto e contribuire affinché si possa realizzare un programma ricco ed emozionante. La città lo sta aspettando, la città se lo merita. Si stanno definendo dunque gli ultimi dettagli per il programma di quest'anno. La parola d'ordine dell'Amico Medico è sempre stata il rispetto della tradizione e quindi sicuramente quello che sarà portato avanti è un programma di concerto con l'amministrazione ma anche e soprattutto con il clero e in particolare con l'arciprettura. Ma posso già dire che avendo sentito le diverse associazioni che hanno partecipato ad una prima riunione, a un primo tavolo in cui abbiamo condiviso le prime impressioni, posso dire che ci saranno delle novità e il programma sarà ancora più ricco quest'anno. L'associazione che promuove attività culturali si è da sempre occupata di tradizioni. L'associazione Amico Medico nasce oltre 40 anni fa, quasi 43 anni fa, con l'obiettivo primario di recuperare i misteri, quelli che comunemente vengono chiamate bare, ma anche i San Paoloni, la tradizione famosa ormai che ha abbarcato i confini locali, che è quella dei San Paoloni. È nata per questo, negli anni, diciamo, fatto sì che queste tradizioni non venissero perse ma sono state rivalutate, rivalorizzate, ma poi adesso Amico Medico fa altro, fa anche altro, si occupa di aspetti culturali a 360 gradi, ma in particolare è legata naturalmente ai riti della Settimana Santa. La Settimana Santa sancataldese è stata anche raccontata nel libro di Claudio Arcarese, San Cataldo, la città della scinnenza e dei San Paoloni. Perché abbiamo un programma molto intenso, molto variogato, che si basa, mi si conceda di dirlo, su un testo, che è quello della scinnenza, della discesa della croce, davvero importante, perché non tutti possono vantare, diciamo, un testo scritto da un autore locale ottocentesco. Il nostro è un testo davvero importante, che noi portiamo in scena da tantissimi anni, da quasi 147 anni.